Qualità o quantità? Chiaramente se c'è l'equilibrio come testa o cuore, mento o cuore, è chiaro che tutte e due grazie al cazzo Quindi abbiamo già passato questa fase Sto tra l'altro scartando una posta che mi è arrivata adesso Quantità e qualità? Perché io molto spesso vedo e sento delle persone che si lamentano che le carte costano tanto Perché volevo farmi sto mazzo però costa troppo, la Konami eccetera, i rivenditori italiani sono dei ladri Tutte queste storie di discorsi che fanno le persone Che possono essere più o meno veri, più o meno condivisibili A questo gli faceva schifo, a questo gli faceva schifo mettere i miei quadrini Che possono essere più o meno veri, più o meno condivisibili eccetera La questione però qual è? E' che molto spesso poi queste persone gli chiedono Vabbè dai che passo c'hai adesso? Ma adesso c'ho Flow Wanderers, SQ Ace, Rumi, Purely, Dark World, Chimera, Branded, Vesta di Cristallo, Jinzo, Exodia, Orcas, Supervivi Samurai, Darklight, Horus, Fire King, Spellbook, Runic, Unchained, Centurion Questo perché? Perché molte persone hanno tantissimi mazzi Tanti, 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 anche completi E magari tantissime carte nel raccoglitore Che stanno lì buttate Vabbè ma questa mi piace Vabbè ma questa poi potrà servì Intanto il mi piace potrà servì Allora mi piace, se ti piace una carta Tu ce l'hai, va bene, per collezione Lo capisco fino a un certo punto Perché Yugi, soprattutto con le uscite odierne Cioè non fai la collezione ad esempio De spinta tattiche triple 1x3 ci otterremo per tutti Perché è una staple che ci otterremo per tutti Ma sappiamo già tutti Che probabilmente a settembre verrà ristampata Quindi tu c'hai una carta da collezione Che sicuramente è fighissima, bellissima Ma che solamente la collezione Se tu collezioni qualcosa Poi andando sempre più avanti Questa collezione ti prende valore Yugi per le ultime uscite non è così Perché Yugi adesso ecco Il per 3 de spinta Costa 50 euro 150 euro 140 Se dichiarano la ristampa Il per 3 può essere che cala a 90 Può essere che cala a 70 Ed ecco che non è un valore Che va aggiungendosi Ma che cala nel tempo Perché con le ristampe La gente Se prende la ristampa Se vende quelle che c'ha Non so da collezione a collezione Di Yugi So carte vecchie So le prime espansioni Poi questo è quello che penso io Magari c'è un mondo dietro Che non è legato a car market E quindi io sto dicendo Non è le stronzate Ma teoricamente Per quello che vedo sul car market È così Quindi perché Mi chiedo Tenesse da parte tutte quelle carte Che ha Vabbè Non si sa mai un domani Che tanto poi le ristamperanno E non utilizzi Per due anni magari Stanno lì dentro Per un anno e mezzo Non le ristampano Poi le ristampano E bestemmi perché l'hanno ristampata Perché prima quella carta valeva Lo sai Quindi vendila Avecce 10.000 mazzi Io personalmente è una cosa che non comprendo Ora Anche a me piacerebbe Avecce diversi mazzi Anche con diverse tematiche Ma diversi mazzi Significa che compri Diverse carte Almeno che non te le fai sui simulatori Comprando diverse carte Poi o c'hai i sordi da buttare Oppure Perché poi vai a local Sì Una volta utilizzi uno Una volta utilizzi un altro È chiaro che se poi sei un professionista Sì Se sei un amatore Se sei un dilettante professionista Come me Ma mazzo te basta Perché tanto usi quello Poi magari quando te stufi Ne prendi in un altro E le staple te le passi Ci sono persone che ci hanno 3, 4, 5, 6, 7, 8 mazzi Sono completi Completi di staple Completi di tutto Ma che cazzo ci dovete fare E poi si lamentano Che magari se uno fa un altro mazzo E non ci hanno i soldi Perché quel mazzo costa 1000 euro Sì ma se ti vengono Un quarto del tuo raccoglitore Tu ne fai 2000 Ovviamente non è riferito a tutti Non è una regola Tutto quello che vi pare Però ci sono persone così E non le sto giudicando E la mia curiosità è Perché avere tanta quantità Se poi vuoi la qualità Ma la qualità costa Allora dai via la quantità Per avere un'ottima qualità In maniera tale Che puoi sfruttarla al meglio Se hai 10 mazzi E 5 nulli Non li apri da 6 mesi Ma una motivazione ci sarà Dalli via Pure che so quei 30 euro a mazzo Quei 50 euro a mazzo So sordi che te ci fai In altro mazzo Uno fatto bene Cagliardo Magari che è top E giochi Le carte dentro Al raccoglitore A meno che non ci avete Le ristampe tipo orari Di roba del genere Caleranno dei valori Al 90% è così Le carte nuove Perché verranno sempre ristampate Lo so Vesso di cose Che già sapete Avete ragione Quindi se vogliamo Essere sia competitivi Sia avere sordi in tasca O sordi da investire Dobbiamo decidere Se investire Se reinvestire La nostra quantità Per la qualità Oppure al contrario Dice Cioè voglio avere 10 mazzi Sto mazzo Mi costa 1000 euro Mi ce faccio 10 mazzi 5 mazzi Da 200 euro È una scelta Allora Se vende Quello lì da 1000 E se ne fanno 95 6 Peggiocacce Perché comunque Ricordiamo È sempre il gioco Quindi Ogni cosa che sto dicendo Non è un dare contro È semplicemente Che magari Io non capisco Determinati ragionamenti Perché ho una mente Diversa Da quella che Avete voi Ovviamente Fortunatamente Perché se avete La mente mia Insomma La mia mente Come vedete È molto alta Altissima Arriva dietro Quando vogliamo fare Qualche investimento Guardiamoci bene Il raccoglitore Perché magari Qualche chicchetta c'è Anzi Fammi sapere nei commenti Se c'è qualche chicca Che magari ti è sfuggita Tanto dai Occhiata a car market E vedi un attimino Come è la situazione Magari C'hai quelle 3-4 carte Che stanno lì da tempo E ti arrivi proprio scordato E riesci a vendere Ti fa pure il mazzetto Da meta E cominci pure a giocare Un po' più che agli arto Altrimenti Te ne fai 10 E giochi Tanto per giocare Tanto questo rega è in gioco E come Ogni decisione va presa Consapevolmente In tranquillità E ora che sei questo Dimmi Tu cosa scegli Qualità O quantità